E affrontiamo quindi oggi questo problemino classico, un classico rompicapo matematico del cosiddetto quadrato magico. Allora, un quadrato magico è per definizione un quadrato di lato n, n per n, che contiene i numeri interi da 1 a n quadro all'interno delle proprie caselle, senza ripetizioni, quindi ciascun numero deve comparire una sola volta, dobbiamo riempire tutte le caselle, questo è facile, ma poi devo fare in modo che la somma dei numeri su ciascuna riga e la somma dei numeri su ciascuna colonna e la somma dei numeri che trovo sulla diagonale principale e la somma dei numeri che trovo sulla diagonale laterale, cioè inversa, e quindi sono n più n più 2, somme di n fattori ciascuna, n termini ciascuna, debbano dare tutto lo stesso risultato. Nel caso di un quadrato 3 per 3, questo risultato magico, il numero magico del quadrato è 15. Ok? Esistono valori di n per cui c'è una combinazione, per cui c'è più di una, per cui non c'è nessuna e lo dobbiamo scoprire. Ok? In realtà questo è uno dei classici problemi che è stato studiato molto dal punto di vista anche matematico, per cui se andate a cercare in giro trovate già il metodo per costruirlo. Esistono degli algoritmi diversi da costruttivi che ti dicono, beh, se le cose sono molto diverse per quadrati di lato pari e lato dispari e ci sono già dei metodi che vi dicono dove mettere i numeri, no? Però noi facciamo finti di non saperlo e proviamo a farlo ricostruire dal nostro algoritmo ricorsivo. Allora, l'unica cosa che non c'è, che non è magica in tutto questo è il valore della somma. Il valore della somma si calcola facilmente. perché ovviamente la somma di tutti i numeri dentro il quadrato è uguale alla somma dei primi n quadro numeri interi e se li ho divisi in tre righe, un terzo, un terzo, un terzo. Cioè se ho i numeri da 1 al 9, qual è la somma dei numeri da 1 al 9? 1 più 2 più 3 fino ai più 9 fa 45. Diviso su tre righe, 15, 15, 15, visto che le tre somme parziali devono essere uguali, ma la somma totale è comunque la somma di tutti i numeri interi che ci ho messo dentro il quadrato, che sono tutti i numeri da 1 a n quadro. Per farla breve, la costante magica è, là c'è scritto quanto vale, che arriva dalla somma dei numeri, dei primi numeri interi, quindi la somma di una successione geometrica, diciamo, aritmetica, 1 più 2 più 3 più n, che fa n per n più 1 mezzi, no? Se vi ricordate, partiamo da 1, non partiamo dal 0. In realtà poi non è n, ma è n quadro, perché se chiamiamo n la dimensione del lato, i numeri che ci metto dentro vanno fino a n quadro. Quindi sarebbe n quadro per n quadro più 1 mezzi. E poi divido per n, perché lo divido per il numero di righe e ciascuna riga dovrà avere lo stesso valore. Quindi quella formuletta lì si ricava a tavolino e ti dice quanto deve essere questo valore. Quindi è facile da trovare. Il problema è trovare la combinazione di numeri che dia effettivamente quel valore lì. Allora, come sempre noi proviamo ad approcciarlo dal punto di vista ricorsivo. proviamo a riempire il quadrato partendo, non so, un approccio possibile è partire dalla prima casella. è un approccio possibile. Io in questo approccio potrei dire ad ogni livello di ricorsione un po' come abbiamo fatto, se vogliamo, per le regine ho una parte della tabella che è già piena e mi concentro su riempire la casella successiva. Quindi ogni livello di ricorsione si concentra su una casella e si fa una domanda quale numero devo mettere in questa casella? Tra quelli che non ho ancora messo nella casella precedente, chiaramente. Non devo mettere i duplicati. E poi ricorsivamente chiederò a qualcun altro di riempire le caselle rimanenti. Quindi un approccio è, diciamo così, andare in ordine. Prendo una casella e mi chiedo. Quindi le caselle le prendo sempre nel stesso ordine, sono fisse, è fisso l'ordine in cui prendo le caselle e è determinato dalla ricorsione stessa. Al primo livello della ricorsione mi concentro sulla prima casella. Al secondo livello mi concentro sulla seconda casella. Al terzo livello mi concentro sulla terza casella e così via. Ad ogni livello io quindi avrò, so già esattamente quali sono le caselle precedenti che sono riempite con dei numeri, come abbiamo visto, provvisori. Abbiamo provato a metterli, poi andiamo a vedere cosa succede. Però non li consideriamo fissi, i numeri precedenti a noi. Abbiamo quindi un certo insieme di numeri che possiamo, dobbiamo provare, tentare di infilare in questa casella e poi ricorsivamente chiederò di passare alla casella successiva. Questa è una possibilità, è un possibile approccio. Poi si dice approccio inverso, in cui dico, ok, c'è il numero 1, dove lo metto? Quindi al primo livello della ricorsione scelgo dove mettere l'1 e posso scegliere 3 e 4 caselle. Al secondo livello lo piazzo. Lo provo a piazzare in tutte le posizioni possibili. Genera tutti i sottoproblemi e ogni sottoproblema sarà adatto dalla posizione dell'1 in un posto diverso. Ricorsione, piazzo il 2. Secondo livello della ricorsione, dove metto il 2? E ovviamente il 2 lo posso mettere in tutte le caselle che sono libere dall'1 che avevo messo a livello 1 di ricorsione e quindi proverò in tutte le caselle possibili. Quindi in questo caso a un determinato livello della ricorsione io avrei il quadrato riempito in modo giordinato con caselle in ordine non necessariamente in fila ma con i numeri progressivi da 1 a i al mio livello. Cioè al quinto livello se fermassi la ricorsione a un certo punto in cui si trova il quinto livello so che ho 5 numeri sulla scacchiera e sono i numeri da 1 a 5 esattamente ma sono messi nei posti vari. Mentre invece con il primo approccio quello che avevamo disegnato qua nella slide io al quinto livello della ricorsione so che ho 5 caselle piene so che sono sempre le prime 5 ma quali sono i numeri lì dentro varia. Quindi sono due approcci opposti entrambi giusti entrambi più o meno della stessa difficoltà della stessa complessità analoghi che vi può venire in mente uno e vi può venire in mente l'altro poi proseguite insomma vanno bene entrambi. Ci tengo a far notare perché non sempre c'è una soluzione unica o ovvia. Ci sono modi diversi di affrontare il problema. Ok. Possiamo prendere questo topologico che forse è un pochino più semplice dal punto di vista della ricorsione delle strutture dati. Allora se uno riempisse per ordine di casella la scacchiera alla prima chiamata ricorsiva ovviamente li vado a riempire in ordine cioè nella prima casella cosa ci metto l'uno nella seconda casella cosa ci metto beh il primo numero che non sia già stato messo cioè il due nella tarta e così via. Quindi va si riempierebbe così la prima volta che scendo con la ricorsione poi chiaramente se andiamo indietro risalendo le prova tutte le altre permutazioni possibili e ovviamente quando arriva al fondo si accorge che non va bene e quindi quando arriva al fondo la ricorsione dice questa non è una soluzione buttiamola via proviamola in un'altra e lasciamo che la procedura ricorsiva nel genere di altre fino a quando a un certo punto arriva al caso terminale in cui si calcola il caso terminale si calcola tutte queste somme e vede se sono valide oppure meno ok? e quindi avremo una procedura che nel caso terminale va a fare queste somme le confronta e questi totali un due tre quattro un due tre quattro questi otto totali devono essere tutti uguali a quindici questo se siamo miopi va bene chi può fare una ricorsione miope però potremmo accorgersi che visto che abbiamo riempito la cacchiera in questo ordine già a livello tre potevamo fermarci perché già dopo aver messo i primi tre elementi mi accorgo che la somma di quei tre lì non è giusta non è quindici e quindi non c'è possibilità al mondo di riempire queste sei caselle e io proverei a riempire sto per provare a riempire queste sei caselle in sei fattoriali modi diversi perché sono tutti i numeri dal quattro al nove ricombinati in tutti i modi possibili ma alla fine mi accorgerò sempre che questa somma fa sei che è sempre lei e quindi dirò non va bene allora in questo caso cosa ho imparato ho imparato che se ho messo le prime tre caselle e comincio a fare un po' di somme posso accorgermi se vale la pena di andare avanti oppure no un due tre mi fermo non vado avanti nella ricorsione non faccio ricorsione sulla quarta casella dicendo prova a mettere qualcosa nella quarta perché so già che qualunque cosa tu metta alla fine il caso terminale mi direbbe i conti non tornano allora se riesco già ad anticipare scendendo nella ricorsione se riesco ad anticipare in modo esatto cioè matematicamente esatto il fatto che il caso terminale mi dirà non va bene mi posso fermare e debito subito qualche milione di chiamate ricorsive allora lui farà uno, due, tre stop allora cambiamo il tre uno, due, quattro no non va bene uno, due, cinque no non va bene addirittura si accorge che con uno, due non si riesce mai arrivare al quindici perché il massimo che posso fare è uno, due, nove e quindi allora dovrà la prima combinazione che arriva al quindici tenendo l'uno uno, sette, otto tutte le combinazioni precedenti uno, sette, otto no sette, otto fa già sedici vabbè uno, sei, nove uno, sei, otto uno, sei, otto quella è la prima che gli permette di andare avanti e passare alla seconda riga però vuol dire che abbiamo già spassolato tutta una serie di combinazioni semplicemente solo lavorando sulla prima riga abbiamo un quindici quindi possiamo provare a passare alla seconda riga poi magari anche lì quindi cercheremo visto che ci accorgiamo che ci accorgeremo facilmente che questo problema è molto piuttosto di quanto non pensiamo dal punto di vista del tempo di esecuzione le strategie per tagliare per ottimizzare ci torneranno sicuramente utili allora questa è l'idea per passare dall'idea all'implementazione alla fine io mentalmente mi faccio sempre queste domande come imposto in generale una ricorsione cos'è il livello a queste prime due domande sono la stessa domanda allora se riempiamo la casella come abbiamo detto prima che tra l'altro ci permette di fare queste somme parziali perché la riempio in ordine la ricorsione è l'imposto chiedendomi diciamo così definendo l'ordine di riempimento delle caselle e chiedendomi ogni volta quale numero inserire che cosa mi rappresenta il livello il livello mi rappresenta il numero di caselle già piene e quindi di conseguenza la casella su cui devo lavorare che deve essere riempita in questo momento il livello massimo è N4 cioè io sono sicuro che questa ricorsione è anche una cosa che un ragionamento che devo fare è che ci sia un massimo sono sicuro dicevamo la prima volta che abbiamo parlato di ricorsione che il problema ogni volta deve diventare più piccolo in qualche dimensione perché altrimenti rischiamo di andare avanti all'infinito qui il livello massimo della ricorsione è quando mi sto occupando dell'ultima casella o anzi quando mi sono appena occupato dell'ultima casella e non ci sono più caselle quindi ho N quadro livelli se io mi trovo a livello N quadro vuol dire che sono nel caso terminale vuol dire che la mia matrice è tutta piena e quindi posso decidere eventualmente posso aver scoperto la soluzione la soluzione è completa e quindi sarà la matrice completa con tutti i numeri e la chiamo soluzione se le somme quadrano altrimenti la soluzione parziale è una matrice in cui appunto le prime celle sono piene e le altre sono vuote le ultime due domande sono la parte più algoritmica l'ultima è la generazione di sottoproblemi dato il problema di un certo livello i come genero tutti i possibili problemi di livello i più uno allora tutti i possibili problemi di livello i più uno sono mettere nella casella i tutti i numeri interi che non siano ancora stati scelti quindi vuol dire che nella prima casella in alto a sinistra a livello zero dovrò provare tutti i 15 numeri 15 tutti sì 3x3 tutti 9 numeri se fossimo nel 3x3 nella seconda casella ne sono più 8 liberi nella terza casella ne sono più 7 liberi perché gli altri sono già stati usati quindi la generazione delle soluzioni significa provare a inserire nella prossima casella quella di cui mi devo occupare al mio livello di ricorsione tutti i numeri interi che non sono ancora presenti nelle caselle precedenti e questa è un'informazione che devo sapere cioè devo sapere quali numeri sono già stati messi oppure no in un modo possibilmente efficiente cioè non devo andare ogni volta a cercarli all'indietro perché sennò questa ricorsione perderà diciamo così il tempo ad andare a cercare i valori di una collezione e questo va bene se io ho già la scacchiera mezza piena nel caso in cui abbia la scacchiera vuota chiaramente la ricorsione a livello 0 viene avviata con l'insieme di numeri ancora validi ancora possibili pieno la casella il casellario diciamo il quadrato vuoto e si parte da livello 0 dicendo riempimi la casella numero 0 allora possiamo con questa struttura possiamo immaginare cominciare ad immaginare il codice ciò che manca ancora e che prima di scrivere il codice vorrei un attimo riflettere è la struttura dati o le variabili chiave della nostra procedura ricorsiva allora la prima cosa che mi devo chiedere è ma io mi creo un quadrato come lo rappresento? io dovrò avere un quadrato in cui ci sono dei numeri scrivo solo n per un certo numero di celle e poi altre celle invece in cui non ci sono ancora questi numeri allora in java sta roba qua come mi conviene rappresentarla? è una un quadrato adesso n chiamiamolo i scusate n era già il lato uguale asterisco qualunque cosa cioè roba che contiene dei numeri di lato n per n ho abusato un po' il simolo n allora come lo possono rappresentare in java una cosa di questo genere ma si può rappresentare in tanti modi diversi dipende un po' cosa c'è più comodo potrebbe essere una lista di list un array list di array list dove la prima la prima list con tale righe e la seconda con tale colonna potrebbe essere un array array di basso livello quello con le parenti di quadre come dato primitivo che noi abbiamo non abbiamo mai usato mai visto in questo corso preferiamo usare le collection perché sono più furbe ci permettono diciamo così delle operazioni più generalizzate potremmo avere una mappa una mappa potrebbe essere riga colonna valore una mappa la cui chiave sia una coppia di interi riga e colonna e il cui valore sia un intero cioè il numero che ci ho messo dentro una mappa sarebbe molto utile se io volessi riempire la griglia in modo disordinato casuale in cui le posizioni occupate sono sparse in giro se no qua potrebbe essere benissimo visto che lo sto riempiendo in ordine potrei avere una lista che contiene gli elementi della prima riga l'altra lista che contiene gli elementi della seconda riga e così via anche se quindi a questo punto il livello della ricorsione diventa il numero di riga e il numero di colonna a cui sto lavorando quindi è un livello della ricorsione fatto di due variabili una riga e una colonna e quindi ogni volta quando scendo di ricorsione devo incrementare la colonna ma se la colonna è arrivata a n devo rimettere la colonna a 0 e incrementare la riga che si può fare però l'altro modo potrebbe essere quello di dire facciamo una bella lista di n4 elementi tanto abbiamo deciso come strategia ma questa è la conseguenza della decisione che abbiamo preso abbiamo deciso come strategia che la matrice la riempiamo per righe finita la prima riga iniziamo la seconda e quindi questo corrisponderebbe a dire ok io ho la prima riga è fatta dai primi elementi la seconda riga è fatta dal secondo gruppo di elementi la terza riga e così via li mette tutti in fila in un'unica lista allora avendo un'unica lista io posso lavorare come con le regine ho una lista che man mano che scende una ricorsione acquisisce nuovi elementi cresce in lunghezza e quando torna indietro la ricorsione lei si accorcia non ho una struttura bidimensionale in cui devo aggiungere una riga togliere una riga oppure decidere di avere già tutte le righe pronte ma poi cosa ci metto dentro nelle caselle vuote ci metto null ci metto zero è una serie di casi particolari quindi mi trovo più comodo a usare una lista una struttura lineare in questo caso per apprendere la scacchiera anche se non è direttamente visibile perché è più facile da gestire tanto io la riempio dal primo elemento in avanti e questa contiene degli interi ovvio che facendo così mi complico un pelino la vita quando dovrò fare le somme perché mentre nella struttura bidimensionale fare le somme basta fare un ciclo sull'indice di colonna tenendo ferma la riga o viceversa qui li ho tutti sparsi e quindi per fare la somma della seconda colonna dovrò andare a prendere questo elemento più questo più questo più questo dove si andranno a mettere per fare la somma per colonna la somma per riga significa andare a prendere vabbè gli elementi consecutivi questo è più facile e la diagonale anche devo andarli a cercare però credo che nessuno ci spaventi dire che la posizione all'interno di questa lista di una casella data la riga data la colonna la possiamo tranquillamente calcolare con r per n più c con tutti gli indici ovviamente che partono dal 0 quindi riga 0 colonna 0 n è la dimensione del quadrato riga 0 colonna 0 posizione 0 riga 2 colonna 4 riga 2 sarebbe la terza riga 2 per n più 4 e mi dà la posizione all'interno di questa lista in cui ricade quell'elemento sulla riga 0 vedete che se tolgo il primo pezzo e sono sulla prima riga la posizione all'interno della lista è uguale al numero di colonna quindi le prime caselle sono le colonne della prima riga e poi a seguire riga uguale 1 vuol dire che sono spostato di n caselle a destra e ho le varie colonne quindi con questo piccolo sforzo mentale di pensare a un quadrato ma memorizzarlo come una lista e questa piccola diciamo così equazione di corrispondenza dovremmo riuscire a semplificarci parecchio il codice gestendo un indice solo che è la posizione man mano che scendiamo nella ricorsione e da lì puoi ricavare la riga e la colonna ho messo che ci interessi la riga e la colonna se uno dalla posizione vuole ricavare la riga e la colonna la posizione la riga è posizione diviso n parte intera la colonna è posizione diviso n resto della divisione divisione resto di posizione diviso n mi da il quotiente e il resto mi danno la riga e la colonna che è quello che i poveretti fanno i compilatori tutte le volte che le diamo strutturali bidimensionale loro se le do mappare nella memoria che è lineare e fanno questo tipo di giochini quindi la nostra soluzione se vogliamo chiamare i nomi usare i nomi dell'altra volta parziale sarà una lista di interi che contiene le prime caselle del mio quadrato e ad ogni livello della ricorsione si occupa della prossima casella libera quindi cosa ci aggiungo qua in fondo e per sapere cosa aggiungere devo sapere quali sono i numeri che ho ancora disponibili che sono tutti i numeri tra 1 e n quadro tranne quelli che ho messo nelle posizioni precedenti della lista questo vuol dire che potremmo semplicemente andare a fare un ciclo da 1 e n quadro e però dovremo a questo punto se il numero non è contenuto nella lista parziale questa parola non è contenuto un pochino mi pesa perché parziale punto contains è un'operazione che richiede di cercare scandire all'interno di tutta la lista quindi potrebbe essere poco efficiente soprattutto fatta decine di milioni di volte e allora magari convierrà a portarci dietro una struttura di dati più comoda che ci dica esattamente quali numeri sono ancora disponibili e quali no ad esempio un set insieme e quindi man mano che posiziono un elemento lo metto nella matrice ma lo tolgo dall'insieme e quando faccio backtracking lo ritolgo dalla matrice e lo rimetto dall'insieme così in ogni momento so quali sono i numeri però su questo ci ragioniamo quando siamo direttamente a livello del codice è solo una questione di efficienza quindi si può anche partire con una prima soluzione più stupida e poi cerchiamo di identificare i punti in cui si può migliorare l'efficienza è sempre sbagliato pensare troppo presto all'efficienza allora passiamo al codice se non abbiamo dubbi sull'algoritmo quindi nel backtracking lo mettiamo tdp e chiamiamo quadrato la nostra classe ok dunque ormai abbiamo imparato che alla fine ci servono due metodi uno pubblico che lancia l'avvio del problema e uno privato che è quello che effettivamente fa la ricorsione quindi possiamo avere un metodo pubblico che risolve crea quadrato magico che ha come parametro un n che ha il lato del quadrato e per ora lo dichiaro void perché come abbiamo visto la volta scorsa estrarre i risultati della procedura ricorsiva è un pochino complicato quindi per ora lo lasciamo void non chiediamo di restituire nulla poi lo aggiungeremo dopo prima troviamoli li stampiamo vediamo se è sicuro di trovarli poi vediamo come estrarli usando le tecniche che abbiamo visto la volta scorsa e poi c'è una procedura privata anche qua mettiamola void per il momento ricerca che è quella ricorsiva vera e propria e cosa riceve ovviamente deve ricevere la soluzione parziale che sarà una lista di interi parziale deve ricevere il livello a cui si trova abbiamo livello chiamano posizione livello mi ricorda meglio il suo ruolo e poi il valore di n sicuramente almeno queste informazioni deve riceverle quindi parziale è una lista che contiene da 0 a n quadro meno 1 elementi il caso terminale lo ottengo quando quando il livello è uguale a n quadro poi non vuol dire che ho trovato una soluzione vuol dire che ho riempito la casella poi devo fare i conti livello uguale n per n vuol dire che la casella è già piena non vuol dire che sto cercando di riempire l'ultima casella livello uguale 9 vuol dire che ho già messo 9 numeri sto per mettere il decimo chiaramente il decimo non c'è quindi semplicemente vado a valutare come sono fatti i 9 numeri che ho messo a livello 8 devo ancora riempire la casella 8 che sarebbe la nona ovviamente l'ultima della mia matrice 3x3 allora qua ovviamente avrò semplicemente un if le somme quadrano allora ho trovato la soluzione una soluzione altrimenti vai avanti a provarne delle altre ok tutte le somme quadrano e questo è facile il codice è facile ma antipatico rognoso ci andiamo a fare i cicli le somme i diagonali e vabbè ci mettiamo a scriverlo non è nulla di concettualmente complicato ho la mia matrice e devo fare queste somme poi invece il caso normale è quando invece devo fare ricorsione allora a questo punto io so che ho la mia lista parziale che contiene già dei numeri e ne contiene quanti livello livello è la variabile che mi dice è sempre vero che la lunghezza di parziale parziale.size è uguale numericamente al livello a livello 0 parziale contiene 0 elementi casella vuota a livello 3 parziale contiene 3 elementi e io devo se sono a livello devo mettere il quarto elemento che si trova guarda caso nella posizione 3 quindi il valore numerico della variabile livello mi dice due cose quanta lunga la soluzione parziale ma anche qual è l'indice della posizione della casella che devo riempire contando partita 0 le due cose coincidono ok quindi io devo riempire la casella successiva pescando tra allora facciamola stupida senza fare senza pensare ancora alle ottimizzazioni io ho eh tanti tentativi tentativo riesco scrivo in italiano partendo da 1 fino n quadro n per n provo a mettere provo a mettere un valore nella casella che sarebbe parziale di livello ok adesso non lo posso scrivere così con la parentesi quadra perché quella è un array list quindi devo fare add ma per capirci quella posizione non c'è ancora devo riempire con un tentativo purché questo tentativo sia relativo a un numero nuovo che non ho ancora messo quindi if non ave not parziale punto contains tentativo allora lo posso aggiungere mi raccomando noto cioè se i numeri già presenti in parziale 1,2,3,4 quanto è pieno insomma fino lì non contengono il numero tentativo allora ha senso provarlo se lo contengono già no non ha senso metterlo perché sarebbe un doppione questa chiamata contents è quella che mi preoccuperà un pochino dal punto di vista delle prestazioni prima facciamolo funzionare poi lo rendiamo poi lo ottimizziamo così come il fatto che già qui ho già calcolato due volte n4 quindi sto calcolando probabilmente 100 milioni di volte n4 facendo una moltiplicazione magari conviene calcolare una volta sola sono piccole cose la procedura è piccola ma viene chiamata tantissime volte quindi bisogna cercare di evitare di fare operazioni inutili ma vabbè a questo punto qua faccio la ricorsione e fare la ricorsione significa aggiungo il tentativo scendo e poi rimetto la cosa a posto solita tripletta di istruzioni parziale add di tentativo ricorsione si chiamava la funzione ricerca a cui passo parziale parziale il secondo argomento era il livello che a questo punto si incrementa di 1 e n che rimane sempre n e poi dopo aver fatto ricorsione faccio backtracking ce la ritolgo il tentativo che ho aggiunto a parziale per poterne poi aggiungere uno diverso cioè tolgo di nuovo l'ultimo elemento di quella lista il cuore tutto qui si somiglia molto a quello delle regine questo pezzo qua con la differenza che la condizione per decidere se andare avanti o no qua è più semplice perché semplicemente si chiede se il numero non è ancora stato usato mentre nel caso delle regine dovevamo fare un lavoro in più perché dovevamo andare a vedere tutte le altre colonne tutte le diagonali eccetera cioè lo schema è sempre lo stesso la specifica condizione che mi fa continuare quindi mi insegna come generare la prossima soluzione e come considerare la soluzione finale chiaramente dipende dal problema è lì in questi punti qua che andiamo a mettere specificità del problema dimmi e non di? sì allora è la stessa cosa nel senso che io la remove funziona in due modi purtroppo o con un int che è l'indice della posizione da rimuovere oppure con un oggetto che è il valore dell'oggetto da rimuovere perché io so già dove si trova quell'elemento io preferisco dargli l'indice perché almeno me lo toglie andandolo a pescare direttamente se io invece gli essi remove tentativo che chiaramente è possibile dovrebbe cercare dentro la lista dov'è l'elemento per poi prima di cioè per poi cancellarlo è un intero sì allora io quando faccio questo add in realtà sto aggiungendo un oggetto di tipo integer su questo java su questa cosa qua crea un po' di confusione sarebbe stato meglio che avesse usato due nomi di metodi diversi perché se io gli passo un int come dato primitivo lui lo interpreta come indice se gli passo un integer come oggetto lo interpreta come tipo di oggetto da rimuovere e quindi va a fare una ricerca all'interno della lista e poi cancellare l'elemento che ha quel valore però io so già dove si trova è inutile che gli faccia fare la ricerca purtroppo java ha scelto lo stesso nome di fare un overloading che è particolarmente critico nel momento in cui quella lista contengono interi contengono altri tipi di oggetti non c'è confusione se contengono interi con il fatto che qui stiamo vingendo un int ma che viene ovviamente trasformato in integer come oggetto in modo automatico invisibile ok il caso semplice che è quello intermedio l'abbiamo risolto bisogna lavorare un pochino per gestire il primo livello e l'ultimo livello il primo livello è facile perché parto avvio la ricorsione dalla lista vuota quindi list integer parziale new array list interi questo e a questo punto forse basta semplicemente lanciare la ricerca partendo da questa soluzione parziale livello 0 n è sempre lui avendo scelto una semplice list interi per rappresentare soluzioni parziali non mi devo costruire una matrice n per n metterci dentro dei valori eccetera quindi mi sono semplificato abbastanza la vita altrimenti qua avrei dovuto preparare le strutture dati dentro cui poi la ricorsione va a mettere di valori allora cominciamo a vedere se questo funziona ovviamente abbiamo tutto tranne che la verifica delle somme quindi se lo facessi girare così senza la verifica delle somme quello che stamperei sarebbe probabilmente tutti i possibili immaginabili quadrati di numeri giusto? perché non ho messo nessun vincolo l'unico vincolo che ho messo è che i numeri non possono essere duplicati però vediamo almeno se lo schema funziona a questo punto poi ci aggiungiamo le condizioni per limitarlo questo è tutto lo spazio che potenzialmente può esplorare allora mettiamo un commento qua per il momento e diciamo semplicemente fammi vedere cosa hai trovato al caso terminale e poi gli facciamo una piccola classe di test test quadrato col suo caro main nu quadrato e poi proviamo a fare q punto crea quadrato magico di lato 2 partiamo ecco quadrato di lato 2 lo genera così 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 eccetera eccetera ci sono 6 combinazioni che iniziano con 1 6 combinazioni che iniziano con 2 eccetera siamo a 4 fattoriale combinazioni dalla fine stiamo generando tutte le permutazioni possibili dei numeri da 1 4 prendo messo nel caso terminale al posto qua quindi costruisce tutto e poi quando ce l'ha pieno mi fa vedere com'è su questo dovrei fare il controllo delle somme adesso noi dobbiamo immaginarcelo ovviamente 1 3 4 2 con 1 3 sulla prima riga e 4 2 sulla seconda riga qui la stampata come lista ma in realtà è un quadrato allora 1 più 3 è uguale 4 più 2 no 1 più 3 fa 4 4 più 2 fa 6 quindi questa qua sarebbe una soluzione da scartare quindi bisogna capire se ci sono delle soluzioni da non scartare sul 3 per 3 sappiamo che c'è almeno una soluzione perché l'abbiamo vista nelle slide sul 2 per 2 non lo sappiamo sul 4 per 4 neanche però stiamo generando soluzioni possibili poi faremo i conti anzi poi adesso dobbiamo metterci a fare i conti proviamo solo a metterci un 3 qua vediamo cosa succede succede che lui lavora alla fine alla fine ce la fa lo stesso mi ha generato tutte le permutazioni dei numeri da 1 a 9 tra l'altro se ci facciamo attenzione il numero di combinazioni che lui deve generare che deve analizzare cresce come il fattoriale del quadrato del lato del quadrato di n quindi un n al quadrato fattoriale che è una funzioncina poco simpatica ecco al crescere di n perché noi siamo passati da nel passare da 2 a 3 siamo passati da 4 fattoriale fattoriale esiste il fattoriale che fa 24 a 9 fattoriale che fa subito 362 mila casi ce l'ha fatta per carità se noi andassimo a un quadrato di lato 4 avremo 16 fattoriale che passa subito nella famiglia delle migliaia di miliardi giusto? 20 mila 922 miliardi di combinazioni quindi dobbiamo stare un pochino all'occhio guardato da 3 sarà facile da risolvere quello da 4 non lo sappiamo cioè la cosa vuoi che sia i computer sono veloci capito? se neanche riuscissimo a generare a provare non so un milione di combinazioni del secondo e se divido per un milione sta roba qua fa comunque 20 milioni di secondi 20 milioni di secondi sono 5800 ore che sono 242 giorni uno può dire ottimizziamo magari eccetera riusciamo a gestirlo non voglio invece sapere cosa succede con un lato della 5 non so leggerlo questo numero le combinazioni possibili con un quadrato il lato 5 sono il 25 fattoriale ma neanche se avessimo un miliardo di combinazioni del secondo riusciremo a risolverlo prima che l'universo finisca perché è tanto bello calcolare gli esponenziali fattoriali quando fai matematica ma poi quando ci metti i numeri veri e ci devi fare i conti non crescono no l'esponenziale lo disegniamo tutto bello liscio lo che cresce tranquillo invece no questo cresce come un muro a un certo punto il 3 è istantaneo il 4 è arduo ma è fattibile in qualche modo sappiamo che dobbiamo ottimizzare tanto perché non abbiamo 200 giorni da aspettare il 5 forse dobbiamo cambiare approccio vabbè ma sono solo conti pessimistici questi per carità però dobbiamo essere coscienti che se io provassi a mettere qua un 10 per fare lo sbruffone come minimo dovete ridermi dietro allora a questo punto però tagliamo tutte le somme quadrano come faccio? allora mi faccio una funzione a parte che ritorna un booleano che riceve parziale c'è una lista di integer che è la soluzione parziale riceve probabilmente di facomodo il valore di n e mi dice se tutte queste somme sono uguali oppure no allora il valore della somma abbiamo detto che lo possiamo conoscere ok il valore della somma lo possiamo conoscere perché era n per n al quadrato più 1 il tutto diviso 2 giusto? andiamo a prenderci la slide qualcuno più bravo di noi aveva fatto i conti n per n al quadrato più 1 diviso 2 quindi nel caso di n uguale 3 avrei 3 che moltiplica 9 più 1 10 30 diviso 2 15 nel caso del quadrato da 4 avrò 4 alla seconda 16 più 1 17 per 4 una qualche cosa diviso 2 34 cioè il doppio di 17 questa è la somma che devo ottenere in tutte le righe in tutte le colonne in tutte le diagonali e allora mettiamoci lì a fare i conti a questo punto ragiono su righe e colonne quindi sono obbligato a ragionare su righe e colonne quindi verifico somma delle righe quindi for riga uguale 0 riga minore di n riga più più qual è la somma degli elementi della prima riga calcoliamocela anche qua devo far ovviamente prendere le varie colonne quindi for int colonna uguale 0 colonna minore di n colonna più più e poi faccio s incrementato di parziale punto get e la posizione cos'è? abbiamo detto che riga per colonna più riga per n scusate più colonna non è r ma è riga più colonna ok? allora in queste tre righe io mi faccio la somma di tutti gli elementi della riga data scorrendo le varie colonne con questo valore s che è la somma di questa riga verifico se è uguale alla somma che deve avvenire se no non è un quadrato magico quindi se s è diverso da somma return false interrompi tutto ed esci perché vuoi debula ah non ho messo il nome scusate il nome della funzione verifica quindi qui ho ragionato immaginandomi le righe e le colonne e poi ovviamente quando ho dovuto prendere singolo elemento ho usato la formuletta per linearizzare la struttura dati e andarmi a prendere la posizione giusta all'interno della lista la stessa cosa la posso fare per le colonne giusto? la somma delle colonne io dovrò prendere una colonna per volta e quindi scambio il ruolo di riga e colonna per una determinata colonna vado a vedere le sue righe quindi in questo caso ho una colonna fissa per quella colonna fissa la terza colonna vado a prendere tutte le righe e faccio la somma degli elementi di tutte le righe e alla fine della di aver prendo tutte le righe di quella colonna ho S che mi contiene la somma di colonna che anche essa deve essere identica alla somma a te la formula è sempre la stessa riga per n più colonne non si inverte la formula quella è solamente il layout con cui abbiamo memorizzato i dati mentre i cicli for si invertono perché li stiamo accorpando le somme in modo diverso mancano diagonali diagonale principale ovviamente sarà una cosa simile ma dove righe e colonna sono uguali quindi prendo ad esempio la versione per righe anzi metto la s int s uguale a 0 qui ho un ciclo solo perché ce n'è solo una diagonale quindi calcoliamo la somma di questa diagonale facciamo su più uguale parziale punto get riga per n più riga perché numero di colonne è uguale al numero di riga no? sulla diagonale principale anzi chiamiamo facciamo in parallelo le due diagonali secondaria principale la cui somma s1 e secondaria la cui somma la metto in s2 così faccio il ciclo una volta sola s1 e s2 s2 vado a prendere ovviamente gli elementi in una certa riga e la colonna qual è? beh quella simmetrica dall'altra parte quindi prendo sulla prima riga sarà l'ultima colonna sulla seconda riga sarà la penultima colonna quindi sarà il numero dell'ultima colonna meno il numero di riga il numero dell'ultima colonna è n-1 meno il numero di riga quindi man mano che scendo la diagonale principale che si accumula in s1 e la diagonale secondaria che si accumula in s2 vedete che la diagonale secondaria vado a prendere riga 0 colonna n-1 quando riga vale 0 che è proprio quello in alto a destra e man mano che scendo cioè si incrementa riga si decrementa la colonna quando sono al fondo ultima riga riga vale n-1 e come numero di colonna avrò n-1 meno il numero di riga che è n-1 quindi fa 0 quindi sono arrivato giusto alla prima colonna se la fine di tutto nessuno si è arrabbiato posso dire che è un quadrato magico queste parti di codice sono l'esatto opposto del codice ricorsivo il codice ricorsivo è compatto poche righe però tanto ragionamento qua è sbrodolato tante righe stupide noiose antipatiche devo fare la somma devo fare il ciclo eccetera niente di difficile noioso da scrivere vediamo un po' se funziona aspetta non ho chiamata questa funzione magari potrebbe essere utile chiamarla if abbiamo detto if tutte le somme quadrano if verifica t parziale parziale allora cominciamo a stamparla questa soluzione parziale serve anche n allora di sicuro mi ha sputato meno soluzioni prima come 3 lato 3 2 7 6 2 più 7 9 più 6 15 9 5 1 9 più 5 14 più 15 4 3 8 4 3 7 8 15 per colonna 2 più 9 più 4 seconda colonna 7 più 5 più 3 terza colonna 6 più 1 più 8 prima diagonale 2 più 5 più 8 seconda diagonale 6 più 5 più 4 una cosa su cui probabilmente ci avremmo scommesso è che al centro c'è sempre 5 al centro il quadrato c'è sempre 5 e non mi stupisce perché è il valore di mezzo queste sono anche qua alcune si potranno ricavare da altre per rotazione tipo 834 438 la prima e l'ultima soluzione ogni riga è una soluzione diversa dovete vederla da ogni riga vederla come un quadratino 3x3 quella che c'è sulle slide ce l'abbiamo dovremmo ci sono tutte 276 951 438 è la prima viene messa come prima perché ovviamente è quella che diciamo lessicograficamente come ordinamento viene per prima perché parte dai numeri più piccoli il 2x2 c'è se io provo a mettere un 2 dovrebbe essere più facile è talmente più facile che non lo trova in questo caso non ci sono soluzioni 2x2 quindi per quello che io ho cominciato a farvi vedere il 3x3 perché altrimenti ci saremmo depressi di fronte a questa cosa qua abbiamo sbagliato tutto non funziona niente no funziona altro che non ci sono soluzioni non esistono quadrati magici 2x2 poi abbiamo fatto dei conti che ci lasciano poco sperare però proviamo a vedere cosa capita con il 4 dimmi i numeri i numeri naturali da 1 a n quadro qui non puoi scegliere quali numeri sono il quadrato 1 2 3 4 devono essere loro le quali scelgo quali sono i numeri è questo proviamo il 4 a differenza del 2 che ha terminato subito senza darci soluzione quella 4 sta girando non vi so dire se tra mezzo secondo salta fuori il risultato o tra 4 giorni sicuramente prima di trovarli tutti ci passa almeno un anno l'unico modo che abbiamo di cercare di farlo andare avanti è di cercare di semplificargli la vita adesso abbiamo una soluzione che funziona ma non è per nulla intelligente nel senso che prova tutte le combinazioni alla cieca e gli unici controlli che fa li fa sul caso terminale per cui adesso qua sono convinto che sta ancora andando avanti a fare 1 2 3 4 sulla prima riga ma di sicuro 1 3 4 non è perché la somma è troppo poco è diversa da quella che dovrebbe valere allora uno potrebbe noi potremmo aiutarlo beh aiutarlo in due modi c'è una funzione che viene chiamata all'infinito che è la funzione ricorsiva quindi ogni calcolo che possiamo evitare a questa funzione sarebbe bene evitarlo la funzione verifica anche viene chiamata tante volte ma meno però ogni volta che chiamo la funzione verifica la chiamo magari centinaia di migliaia di volte la funzione ricerca perché la verifica la chiamo solamente quando sono arrivato al massimo livello quindi è bene ottimizzare la funzione verifica va bene ma è molto più importante ottimizzare la funzione ricerca e quindi questa è una prima osservazione cosa fa di operazioni leggermente impegni evitabili questa questo quadrato per cui mi potrebbe venire in mente di mettere passare anche non solo n ma anche il suo quadrato calcolare una volta sola ti do già l'n quadro calcolato avrà un impatto praticamente irrisibile e questo invece contents che invece costa perché quando comincio a avere una lista molto lunga e devo cercare dentro l'otto c'è il nove c'è il dieci c'è quando lo so benissimo se c'è o no cacchio l'ho appena messo io dentro quindi questo si può ottimizzare ma l'altro e questo è un modo per dire hai una funzione che impiega che ne so due millisecondi a funzionare e se io da due millisecondi riesco a scendere a un millisecondo ho raddoppiato la velocità quindi ho raddoppiato il numero di soluzioni al secondo che considero l'ottimizzazione delle operazioni delle strutture dati dentro la procedura ricorsiva mi dà un miglioramento proporzionale della velocità di esecuzione ed è il numero di operazioni di soluzioni che vengono esplorate nell'unità di tempo solo che con un miglioramento proporzionale ci faccio il tè determinato cioè alla fine acqua calda acqua sporca perché è vero che non ci mette più 270 giorni se raddoppi la prestazione di questa roba qua ce ne metterà 150 90 ma sì ma chi se frega dobbiamo trovare un modo di semplificare esponenzialmente non proporzionalmente solo l'efficacia di questa funzione altrimenti non ce la faremo mai allora il modo qual è è sì sicuramente tutto giusto bisogna limarla rendere più efficiente eccetera soprattutto questo contesto qua mi fa male a me proprio per come vengono usate le liste ma so già che se mi mettessi a aggiungere un set eccetera lavoriamo un quarto d'ora ma poi alla fine non risolviamo il problema da quattro l'unica soluzione che abbiamo è ridurre drasticamente il numero di volte che questa funzione viene chiamata perché noi abbiamo abbiamo detto 200 giorni che cosa sono questi 200 giorni sono abbiamo detto ah elaboriamo ipoteticamente un milione di soluzioni nel secondo non ci arriviamo con questo codice facciamo finta però abbiamo 270 giorni il conto che ci è venuto prima che è uscito dalla moltiplicazione tra un microsecondo un milionesimo di secondo e 20 mila miliardi di operazioni da fare allora è inutile che giochiamo sul microsecondo possiamo fare un mezzo ma i 20 miliardi restano dobbiamo giocare sui 20 miliardi se riusciamo ad abbattere il numero di chiamate come? cercando di anticipare il prima possibile se ci stiamo infilando in un ramo secco in un ramo non produttivo come faccio ad accorgermi? beh ad esempio io posso avere dei test intermedi ok questo è il test finale vero e proprio ma io potrei alla fine di ogni riga controllare la somma di quella riga quindi ad esempio se aggiungo un if qua in mezzo il livello modulo n uguale a 0 posso fare un controllo cioè il livello modulo n uguale a 0 vuol dire o livello uguale a 0 in questo caso non devo fare nulla escludendo ovviamente il caso in cui si è a livello 0 non sono a livello 0 che non c'è niente da controllare ma sono un livello che è un multiplo di n quindi sono a livello 3 sulla matrice da 3 sono a livello 4 sulla matrice da 4 oppure sulla matrice da 4 sono a livello 4 a livello 8 a livello 12 e poi c'è il livello 16 che sarebbe a livello terminale l'abbiamo già considerato allora io potrei andare a verificare la somma degli elementi della riga che ho appena terminato solo quella la prima riga l'ho terminata il suo valore è giusto? no, via non andiamo avanti non genero i figli di questa soluzione quindi immaginiamo la matrice 4x4 non genero il primo elemento della seconda riga se io mi sono accorto che la prima riga non funziona quindi io potrei fare un if not verifica riga parziale n livello diviso n return io dico guardami sta soluzione parziale n che chiaramente vanno insieme perché mi servono per analizzare la soluzione livello diviso n sarebbe il numero di riga 1,2,3 questa divisione non mi dà problemi perché mi avviso la pena che è un multiplo di n e quindi questa procedura mi farà la somma di quella riga lì solo e mi dirà vero o falso verifica riga cos'è? beh è una versione semplificata di verifica private Boolean verifica riga agli stessi parametri di verifica con in più un parametro che è la riga riga non riva e cosa fa? fa la somma degli elementi di quella riga quindi non fa nulla di più di quell'altro che fa questo rubo il codice faccio la somma degli elementi di una certa riga in questo caso ho il ciclo for su colonna la variabile riga per me è una costante perché mi è stata passata come parametro è quella riga lì che mi interessa ovviamente la somma devo averla calcolata anche qua e restituisco se s è uguale a somma i fesso quale somma ritorna vero altrimenti ritorna falso no? c'è un pezzettino della verifica che farò poi nel caso terminale lo faccio già appena ho terminato una riga mi serve solo quella riga lì non mi serve andare a vedere quelle precedenti quella che ho appena terminato allora vorrà dire che io passerò lavorerò un po' sulla prima riga quando arrivo alla fine della prima riga se la somma non fa 24 nel caso del 4 non scendo la seconda riga chissà se sta roba funziona proviamolo di nuovo sul 3 per vedere di non aver introdotto degli errori appunto indice 3 ho fatto qualche casino con gli indici mi sa dove siamo quindi supponiamo che livello che livello che livello valga 4 questa divisione ah no certo è meno 1 ma diciamo di essere 4 per 4 no no il numero di riga che devo guardare è la riga se sono nella prima casella della riga 1 devo guardare la riga 0 perché lei è completa quindi livello vale 4 4 di riso 4 fa 1 meno 1 0 poi quando ho completato la seconda riga sarò nella casella 9 livello vale 9 9 di riso 4 fa 2 meno 1 1 non va vero? abbia sbagliato qualcosa allora vediamo cosa abbiamo detto facciamo un breakpoint qua allora parziale mi ha dato 1,2,3 S vale 6 somma vale 15 quindi dice ovviamente no poi andiamo avanti 1,2,4 1,2,5 1,2,6 1,2,7 e qui ne prova tante ogni volta ovviamente sarà no perché S è giusto 1,4,5,3,8 somma fa sempre 15 quindi è giusto quindi per la funzione sembra che lavori correttamente sulla prima riga almeno riga vale 0 no qua? sì 1,9,6 questa qua fa 15 no? fa già 16 quindi mi sono perso quella giusta come? eh non lo so l'ho persa va beh però questa funzione lavora giusto andiamo allora l'errore andiamo a vedarlo sopra il livello diverso da 0 fai questo ah beh certo scusate è sbagliato questo rise perché questa deve essere una condizione che mi dice se ritornare oppure se fare questo ok? quindi questo S dovrebbe essere in contrapposizione a questo IF non a quest'altro IF giustamente perché qua stiamo qui quello che stiamo dicendo è se sono su una riga sul livello faccio questo controllo in più ma questo codice qua ci arrivo solo se non sono a fine riga quindi praticamente lui alla fine della prima riga non va avanti mai comunque no è sbagliato è sbagliato questo l'ho sbagliato io qua no? quindi in realtà sono gli annidamenti che sono errati un primo S che dice va bene caso terminale altrimenti tutti gli altri casi tutti gli altri casi anziché farli di brutto prima li verifico se per caso sono in questo caso e la verifica fallisce esco chiuso a graffa se non sono uscito continuo ok? quindi questo è il codice normale di prima semplicemente prima di entrare ad eseguire questo codice faccio a volte una controllo suicida se c'è qualcuno che non va esco direttamente senza provare a generare sotto soluzioni ma se invece questo passa non c'è un else qua in mezzo era sbagliato l'else che c'era qua se la verifica ha buon esito allora è giusto che vada avanti altrimenti non andava avanti quindi non superava la prima riga ok allora qui funziona come prima forse funziona più veloce di prima non lo so dovrebbe funzionare ah guarda adesso lui va avanti prima di girarle tutte però siamo riusciti a sbloccarlo perché non sta perdendo anni della sua vita a riempire la seconda terza quarta riga di una matrice di cui i primi quattro elementi già sono falliti siamo qua siamo qua ok poi è ovvio che tutto il resto è ad ottimizzare ma gli effetti principali li abbiamo sempre sul cercare di bloccare una chiamata ricorsiva quando riusciamo a scoprire che è inutile tra l'altro il giochino che abbiamo fatto se ci pensate è stato quello di rallentare la procedura ricerca perché rispetto a prima la singola chiamata ricerca adesso fa un controllo in più chiama questa funzione in più eccetera fa del lavoro in più quindi non sarà più di un microsecondo ma uno virgola qualcosa a microsecondi ma l'esito di questo controllo in più mi può una volta su mille una volta su cento evitare una chiamata ricorsiva e evitare una chiamata ricorsiva significa evitare quella chiamata e tutte le sue sottostanti tutti i milioni di chiamate che da lì possono nascere soprattutto se ovviamente mi fermo a livelli alti più in alto mi fermo più riesco a ottimizzare a ridurre il numero totale di chiamate ok? vabbè lo lasciamo girare tutta la notte così sappiamo quante sono se volete non siamo ancora pronti a affrontare il caso da 5 ovviamente ma non ci proviamo